buongiorno buonasera buon salve faccio questo triste di saluti perché ragazzi non so questo video quando lo pubblicherò benvenuti in questo mio nuovo video del pre partita per il napoli domani sera è napoli alle ore 21 scendere in campo al dacia arena per affrontare l'udinese una gara valida della trentatresima giornata di serie a ma prima ragazzi io vi invito come sempre iscrivetevi al canale mettere mi piace soprattutto mettere mi piace perché a noi creators è importante che voi mettiate un mi piace che tanto è un secondo clic bello ok attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati io poi faccio video faccio pochi video però almeno quei pochi no vi arriva la notifica si spera e poi ragazzi seguitemi su tutti gli altri miei social perché io sugli altri social soprattutto twitter e instagram affronto argomenti che su youtube non affronto oppure twitch e che ragazzi stasera io vado in live dalle 5 per seguire tutta la serie a e insomma ci prepariamo un po al giorno fatidico perché manca pochissimo manca manca veramente pochissimo manca un fottuto benedetto punto per la matematica non è un fatto di scaravanzia che dico calma non è un fatto di scaravanzia ma un fatto mio cioè io se non vedo la matematica matematica vera io non non mi vieta dire siamo campioni di non ce la faccio io già quando se dovesse avverarsi io già normalmente non riesco a dirlo perché non ci credo perché un sogno che diventa realtà un sogno cullato 33 anni un sogno nella mia vita che è cullo da più di 20 anni io che ho vissuto il fallimento ho vissuto la rinascita ho vissuto tante vicissitudini poi ho vissuto anche l'era del web ovvero tutto lo schifo che ci danno addosso a noi napoletani pieno di luoghi comuni pieno di stereotipi e quindi mi è salito anche un po lo schifo un po di seguire tutto il calcio ma voglio il napoli ci sta regalando un anno di un anno di emozioni e spalletti che io ho letto la conferenza stampa non l'ho vista ma l'ho letta non l'ho vista perché ma circondate che oggi stava alla mezza io pensavo che la facevano alle tre però ho perso la cognizione del tempo e l'ho persa però ho letto alcune cose ha elogiato udine ha detto una bella squadra buona società grazie all'udinese se io ho fatto otto anni qua insomma solite cose da da ex allenatore solite frasi che dice quando affronta l'empoli o la roma e poi ovviamente ha parlato ha parlato di un sogno che parte dall'anno scorso praticamente grazie ai vecchi giocatori oggi si c'è questa continuità che si potrà consacrare il tutto e ha dato insomma qualche piccolo anticipo per quanto riguarda il futuro dicendo questa squadra ha le potenzialità per per avere un ciclo vincente tutto dipende ovviamente da vari fattori per esempio il calciomercato e qua qualche qualche giornalista diciamo inizierà a mettere qualche nome in entrata in uscita quindi voglio quest'estate vivremo una bella estate di festeggiamenti perché voglio a napolo se festeggia tre mesi non una settimana tre mesi numero futuro proprio provincialismo non vincete mai sti cazzi tre mesi ok chiunque viene a napolo chiunque come turista vede festeggiamenti quest'estate ok ma a parte questo io sono del parere che se de laurentis ha in mente un progetto duraturo ok allora veramente potremmo aprire un bel ciclo questa è la mia speranza però dobbiamo finire prima quest'anno e quest'anno finisce il 4 giugno e quindi appena arriva la matematica io mi auguro che spalletti non che lasci come dire lasci a briglie sciolte tutti e dite fare quello che cazzo vi pare tanto abbiamo vinto tutto io però spero qualche turnover qualche giocatore da dargli qualche chance in più tipo Beresischi tipo Gaetano tipo questa gente qua e magari per dargli l'idea su chi potrebbe essere confermato ok penso di essere stato chiaro ma comunque adesso c'è Udinese Napoli una partita difficile una partita da vincere una partita che potremmo potremmo scendere in campo con lo scudetto già in tasca quindi questa potrebbe essere la paura la paura la tensione perché lo scudetto potremmo vincere in caso di non risultato della Lazio cioè se la Lazio pareggia o perde allora in Napoli da stasera alle 10 e 45 circa sarà campione d'Italia per un fatto matematico ok quindi voglio comunque come ho detto nel partita precedente dobbiamo pensare a noi non dobbiamo sperare e aggrapparci al risultato degli altri dobbiamo pensare a noi perché con la Sanitana abbiamo giocato in un modo la Sanitana ha giocato il massimo che poteva ha fatto la sua in questa partita noi siamo stati dei pugli a subire il gol e pazienza festa rominata ma festa rinviata quindi molti sì qualche critica qualche delusione perché è un ambiente bello un ambiente così un ambiente colà qualche delusione c'era però dall'altra parte di sopra pochi a 50 60 chilometri c'è qualcuno sfo tatuaggio di A cioè chi si è tatuato il gol di D.A. ok mi ricorda mi ricordano gli inglesi che si tatuarono Inghilterra Italia ricordate? Allora ecco se il karma esiste D.A. viene a Napoli e fa tripletta a Sanitana se il karma esiste però per quanto riguarda D.A. parentesi calciomercato a me non piace però se dovesse arrivare chapeau a D.A. e gli do tutta la fiducia del mondo a me mi ha fatto godere diciamo due cose di spalletti dicendo un'espressione napoletana ovvero che ha detto lo scudetto ciostam trezian chiano chiana trezian significa ce lo stiamo godendo piano piano partita dopo partita ce lo godiamo ce lo godiamo poco a poco poi appena arriva la matematica appena arrivi il 4 giugno il godimento diventa quadruplo diventa quintuplo diventa una cosa incredibile quindi gli altri festeggiano per averci rimandato i festeggiamenti però noi intanto ho scudetto ci ho portato a casa a meno che perché c'è sempre questo se ma a meno che non ci dovessimo suicidare però io vedo uno spalletti ancora carico ancora sul pezzo e poi ha fatto una frecciatina a Sarri perché Sarri nella scorsa giornata disse io spero che il napoli ritardi la festa scudetto perché giustamente pensava a se sesso ovvero pensava e sperava che la Lazio potesse fare il risultato a Milano e spalletti giustamente qualcuno dice spalletti chi ha spalletti là però giustamente dice ha detto sarebbe facile rispondere a Sarri che spero che loro non si qualifichi che si qualifichino il più tardi possibile in Champions ma non lo faccio cioè in sintesi ha detto io posso pure dire spero che la Lazio ritardi l'accesso alla Champions in seguito questo vuol dire che la Lazio stasera perde o pareggia e noi vinciamo noi vinciamo lo scudetto e quindi però noi vinciamo e insultiamo e gli altri ritardano un po' la rincorsa però giustamente dice spalletti io non lo dico non lo faccio che dire poi alla fine ha detto tante altre cose che sinceramente io non sono uno che analizza parole per parole però giusto qualcosina qualche per sottolineare qualcosa e voglio che dire io io mi sto preparando mentalmente e non sono pronto ma mi sto preparando mentalmente perché è un sogno che si avvera è un sogno che aspettavo da da tanti anni è un sogno che in questi anni in questi 10-11 anni l'abbiamo sfiorato tre volte e siamo arrivati lì ma non ci siamo arrivati non abbiamo concluso ok però quest'anno con un progetto anche perché no il suicidio delle altre però il Napoli è stato bravissimo ad approfittare di questa cosa mentre gli altri anni in Napoli pur con il fallimento degli altri non ha approfittato noi quest'anno non ne abbiamo approfittato quindi va benissimo così ragazzi testa a Udine piccola finestrella per stasera perché non c'è niente di male vedere Lazio Lazio Sassuolo ma ben che vada si festeggia stasera altrimenti ma già a prescindere io penso a Udine già a prescindere cioè Lazio sì me la vedo tanto per ma alla fine il pensiero in primis va va a Udine piccola parentesi su De Laurentiis che ieri ha detto lo scudetto dell'onestà pure Spalletti ha detto no ma io è ingiusto commentare parole De Laurentiis io dico e sottolineo questa è la conferma del perché io sono anti De Laurentiis io non critico De Laurentiis imprenditore ok che non è che ha fatto grande cose imprenditore però alla fine i risultati gli danno ragione senza se e senza ma però a me quello che mi sta sui coglioni è la persona è le dichiarazioni a sproposito che fa e primi cinesi con l'Inter e poi lo scudetto dell'onestà e poi questa e poi quella meno parla cioè siamo stati 4-5 mesi in cui lui non ha fatto parole non ha detto a siamo stati in grazia di Dio appena De Laurentiis ha detto a subito abbiamo traballato un pochino coincidenza io non credo ragazzi lasciate un mi piace mi raccomando ci vediamo stasera verso le 5 del pomeriggio in live forza Napoli sempre ci siamo quasi ciao a you a Ciao